Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti l'ordi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore Yahawa Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukha Qodash e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità e miei saluti e pace agli eletti della casa di Yasharala, a coloro che stanno lavorando nella vigna che è questa terra in questi ultimi giorni e a coloro che con sincerità cercano di sapere questa verità, shalom. Questa lezione credo sarà breve e sarà a tratto di studiare queste parole perché queste parole è tutto quello che abbiamo. Anzi iniziamo subito leggendo da Isaia capitolo 36 e versetto 16 che dice cercate dal libro dell'Eterno e leggete nessuno di questi fallirà. Ok? È molto importante che noi cerchiamo da questo libro dell'Eterno che sono queste scritture qui, la Sacra Bibbia. Nessun altro libro ha la verità. Il Corano non ha la verità. Il libro dei morti degli egiziani non ha la verità. Non lo so, il libro dei mormoni non ha la verità. Nessun altro libro ha la verità. La verità si trova nelle scritture, nella Bibbia, nella Sacra Bibbia. Ok? La Sacra Bibbia contiene tutti quei libri e ci sono libri che sono stati tolti poi, che fanno parte della Sacra Bibbia. Parlo delle Apocrife. Si trova nella versione interconfessionale. Ok? Ho già fatto diversi video riguardo questa versione delle scritture nella lingua italiana. Per esempio, se guardate la King James Version della Bibbia, quella dei 1619. 1619. Ok? In quel libro aveva dei libri in più. I libri di Maccabèi, la preghiera di Susana, il libro di Giudiz, aggiunto a Lester, il libro di Seracchide. E ce ne sono altri libri. Ok? Perciò intendo questi libri qui. Dobbiamo cercare da questi libri. E sono da questi libri che troveremo la verità. Ovviamente pregando al Padre affinché possa aprirci la mente e gli occhi per accettare questa verità. E allora cominceremo a capire questo libro e imparare, sì, dagli insegnanti che il Padre ha messo dappertutto. Ce ne sono i vari insegnanti della Great Millstone. Ok? E fanno anche l'insegnamento in spagnolo, in tedesco, in francese, in inglese. E sono sparsi sui quattro lati della terra. E questa è la profezia del Padre che aveva detto che questa verità verrà predicata in tutta la terra poi arriverà. E come vi dico, questo strumento internet è stato creato dal Padre ed è uno strumento per portare la verità ai quattro lati della terra ed è quello che sta succedendo. Torniamo qui. Le scritture dicono, cercate dal libro dell'Eterno e leggete. Nessuno di questi fallirà. Nessuno vorrà la sua compagnia, poiché la mia bocca ha comandato e il suo spirito li ha raccolti. Ok? E come sapete, quello che dice il Padre succede. Ok? Le parole del Padre succederanno. Ora andiamo a prendere dal libro di Salmi. Dal libro di Salmi era capitolo 119 e versetto 105 che dice La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ok? La parola delle parole del Padre è una lampada a coloro che fanno tesoro di queste parole. E queste parole contengono quello che è successo nel passato e quello che succede adesso e quello che verrà a succedere nel futuro. Perciò sono una lampada, più di una lampada che ci illumina i cammini. Ci illuminano il nostro percorso in questa vita terrena. Ok? E prendiamo un'altra scrittura. Libro di Matteo. Matteo, capitolo 11 e 28. Che dice Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Ok? Noi siamo affaticati in questa terra. Vedete? Questa scrittura non dice Venite a me o voi tutti ricchi e prosperosi. Non dice Venite a me, coloro che hanno la carriera più luminosa in questo regno. Non dice Venite a me o voi presidenti e capi. Dice Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ok? E io vi darò riposo. E come facciamo a venire al Padre? Attraverso le sue parole. Attraverso questo libro qui. Che ci farà illumino sui nostri cammini e ci portare a conoscere sempre di più Lui. Ok? Detto questo, vedete che questo versetto vi fa capire lo stesso che sono quelli oppressi nella società. Ok? Sono i veri israeliti. Ok? Gli israeliti sono oppressi. Ok? Sono i così chiamati negri nativi americani e latini. Ok? E i così chiamati negri sono spersi da per tutta Europa. Ok? Questo, guardando la storia dei così chiamati mori, quando hanno dominato per più di mille anni in Europa. Ho fatto una lezione sul libro di Apocalisse, capitolo 13, che ne parla molto di questo. E ho fatto vedere delle prove, diverse cose archeologiche e storiche in quel video. Perciò vi consiglio di guardare quel video per capirne sempre di più. Ok? 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 I mori hanno dominato Europa. Per esempio un padre moro con una donna caucaso. Se hanno un figlio, è molto probabile che il figlio viene una sorta di mulato, quello che chiamiamo mulato, viene fuori mulato. E se questo figlio, ricordatevi che questo figlio è sempre un israelita. E se questo figlio si mette insieme con un'altra caucaso e viene un altro figlio assolutamente con la pelle così chiamato bianco, che alla fine non esiste bianco e nero, esiste marrone e rosso. E se si mette con un'altra caucaso e viene un bambino tutto biondo, occhi blu, questo bambino è sempre un israelita. Non è il suo colore che c'entra. Perciò, dico questo perché l'Europa è stato dominato dai mori per più di mille anni. Ok? E questi sono i veri israeliti, i così chiamati negri. Ok? I nativi americani e i latini. Andiamo avanti. Ora leggiamo. Il discorso dunque era quello di aggrapparsi alle parole del Padre. Che queste parole ci portano alla vita eterna. Queste parole ci avvicinano sempre al Padre e ci avvicinano al Regno ad avvenire. Come sapete, questo Regno è proprio alla sua fine e stanno per arrivare proprio momenti molto difficili. Quindi, prendiamo dal Libro di Salmi. Dal Libro di Salmi 91. E versetto... Sì, iniziamo dal capo. Che dice... Chi dimora nel luogo il segreto dell'Altissimo dimorerà all'ombra dell'Onipotente. Ok? Dirò all'Eterno, Egli è il mio rifugio e la mia fortezza, il mio potere e in Lui mi fiderò. Ok? Sicuramente ti libererà dall'accio dell'Uccellatore e dalla pestilenza nociva. Ok? Chi dimora nel luogo segreto dell'Altissimo. Qual è il luogo segreto dell'Altissimo? Sono le sue parole, i suoi statuiti, comandamenti, che si trovano in questo Libro Sacro. E soprattutto, non possiamo adorare il Padre se non conosciamo il suo nome vero. E dovete capire che c'è stato un gran inganno, un gran lavaggio di cervello. Uno che era ebreo, lo hanno dato a un nome greco. Il nome di Gesù che chiamate, Geova, Emanuele e tutto il resto, non sono altro che traduzioni greche. Non hanno nulla a che fare con il suo vero nome ebraico, che è della tribù di Giuda. La stirpe di Giuda, ok? La stirpe è i semi di Davide. È un ebreo, non è un greco. Perciò, dimorare nel suo luogo segreto è anche conoscere il suo nome, che è il suo nome segreto. Chi lo sa? Anzi, mi sa che questo si trova nel libro di proverbi. Ma per non tornare, per non... Anzi, cerchiamolo. Finisco questo. Perciò, dobbiamo conoscere il nome giusto del Padre, ok? Se no, non lo possiamo seguire, se non conosciamo il suo nome. Il nome giusto del Padre è Yahawa. Il nome del suo figlio è Yahawa Shai. E sono queste cose che ci salveranno, ok? Che ci faranno da rifugio e fortezza, ok? Dall'uccellatore e dalla pestillenza nociva che sta per arrivare, ok? Ora andiamo a vedere riguardo il nome. Io so, perdonatemi, all, so che è nel libro di proverbi, who, perdonatemi. Perdonatemi, eccoci qui. Ecco, si trova nel libro di proverbi 30 e 4. Libro di proverbi 30 e 4. Che dice? Chi è salito al cielo o è disceso? Chi ha raccolto il vento nei suoi pugni? Chi ha avvolto le acque in una veste? Chi ha stabilito tutte le estremità della terra? Qual è il suo nome? Qual è il nome? No. Qual è il suo nome e qual è il nome di suo figlio? Se puoi dirlo. Secondo voi perché? Perché Salomone scriverà una cosa così? Lo scrive perché il nome del padre poi è andato ad essere perso, ok? Il nome suo è andato ad essere perso. Sono pochi che conoscono questo nome qui. E questo che sta dicendo qui è una cosa futuristica. Chi è salito? Chi ha creato tutto? Qual è il suo nome? E qual è il nome di suo figlio? Tu lo puoi dire? Perciò tutte queste chiese, tutte queste religioni qui non hanno la verità. Se loro non vi insegnano il nome vero ebraico. Di qui ho fatto un video per capire meglio. Basta andare a vedere sui video che ho fatto l'origine del nome di Dio, ok? Lì ci sono tutte le spiegazioni, versetti. E prove storiche, ok? Va bene? Perciò ricordatevi per dimorare nel posto segreto del padre. E' questa verità qui che noi stiamo insegnando della Great Millstone. E come vi dico sempre, il tempo non c'è tanto. Il tempo è breve. Tra poco non potremo nemmeno insegnare più queste cose qui. Come ci stanno censurando, che porta alla profezia del libro di Amos, capitolo 8-11. Che ci sarà una fame della parola. Ora andiamo sul libro di Isaia, capitolo 33, versetto 22. Che dice? Poiché l'Eterno è il nostro giudice. L'Eterno è il nostro legislatore. L'Eterno è il nostro re. Ci salverà, ok? E' solo l'Eterno Yahweh e il suo figlio, Yahweh Shai, che ci possono salvare. Toglietevi la mente, da tutto il resto, del lavaggio del cervello che vi stanno facendo, le misinformazioni, che il veleno e il macino è quello che vi salverà. O un politico nuovo vi salverà dalla crisi. Sono tutte promesse false, delle illusioni per portarvi alla morte che sta per arrivare. Dovete avere il cuore verso il padre, ok? E' Lui il nostro giudice. La sua legge è la legge che dobbiamo seguire, che sono iscritti in questo libro qui. Certo che dobbiamo seguire alcune leggi anche di questo regno, se no non potremo andare avanti. Ma il nostro cuore, i nostri pensieri, il nostro successo e la nostra speranza deve essere sul padre Yahweh e il suo figlio Yahweh Shai, ok? Non nel lavoro, non in una carriera, non in niente altro. E per chiudere, leggo dal libro di Romani, capitolo 14, versetto 8, che è un po' diverso, ma... Che dice, poiché, se viviamo, viviamo per il Signore Yahweh, e sia che moriamo, moriamo per il Signore Yahweh. Sia che viviamo dunque, sia che moriamo, siamo del Signore Yahweh. Avete capito se viviamo, perché, come vi ho detto, stiamo arrivando ad un periodo, a breve, che chi non prende il veleno, il macino, ok? Chi non lo prende, non potrà fare parte della società. E arriva il marchio della bestia, che è il microchip che segue, ok? E se noi non prendiamo, non faremo parte della società. E le scritture ci fanno anche capire, nel libro di Apocalisse, che tanti santi moriranno. Tanti saranno portati e chiusi nelle prigioni. Qualunque sia la fine che faremo, saremo, sappiamo dunque, se ci teniamo a questa verità, saremo dalla parte del Padre Yahweh. Se moriamo, ci sveglieremo al suo ritorno. Saremo i primi ad essere richiamati, ok? Perciò, cari fratelli e quelle poche sorelle che cercano questa verità, cercatelo mentre si può trovare il Padre Yahweh e il suo figlio Yahweh Shai. Venite fuori dalle calunie, dalle menzogne, dai inganni della religione, della politica, di tutto il resto. E cercate il Padre. Stanno per arrivare tempi davvero duri. Detto questo, spero siete stati edificati. E lascio tutto questo nel sacro nome del Padre Yahweh, Baha Shem Yahweh Shai, Baha Shem Ruqa Qadash, miei doppi onori agli apostoli anziani della Great Mewstone GMS, per avermi insegnato questa verità. E pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.